La gara con il Padova ha detto ancora una volta che questa squadra sa soffrire a carattere e che può giocarsela con tutti fino in fondo. Lei l'ha sempre detto, la squadra lo ha riguadito in modo forte e chiaro in campo. Sì, dalla partita col Padova usciamo sicuramente ancora di più con la convinzione che le nostre armi, le nostre qualità possono mettere in difficoltà chiunque, anche una squadra molto forte come il Padova. E' chiaro che poi all'interno di una partita del genere, vuoi che loro dovevano rimontare, vuoi la loro forza, è chiaro che la partita l'hanno fatta più loro che noi. C'era impianto di non aver raggiunto i tre punti, visto che eravamo in vantaggio, visto che alcune situazioni ci sono andate contro, però alla fine il risultato credo fosse giusto, ma ripeto, ha confermato il fatto che noi siamo sulla strada giusta, stiamo crescendo e questa stagione siamo competitivi veramente con tutti e anche con le squadre di vertice. La classifica continua chiaramente a dire questo e noi dobbiamo cercare da domani con la San Benedettese di continuare questo trend positivo di prestazioni che la squadra sta facendo in modo incommiabile, perché poi alla fine ha anche questi valori e anche in emergenza come domenica scorsa e come saremo domani dobbiamo tirarli fuori. Che squadra è la San Benedettese? La San Benedettese è una squadra che a mio avviso ha dei valori anche singoli, importanti. poi probabilmente avevano aspettative diverse, hanno avuto qualche difficoltà, qualche problema con gli allenatori che tra l'altro sono tutti, sono passati allenatori e da Montero stesso sono allenatori importanti, quindi è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque e noi dobbiamo cercare, ripeto, di fare la nostra prestazione come spirito, come quella col col Padova è come quelle precedenti. Situazione con Malomo e Marchi, a parte Gatto, Doggo e Finchi, gli altri come stanno? No, Malomo è a disposizione, lo era già parzialmente domenica scorsa, col Padova questa settimana si è allenato a pieno ritmo, Marchi invece non si sente ancora sicuro al 100% dal punto di vista medico, clinico è guarito, però non si sente ancora in fiducia e giustamente anche noi visto che avremo poi tre partite in una settimana a San Benedetto non lo vogliamo rischiare. Il modulo a San Benedetto sarà quello tradizionale? Ci stiamo pensando, l'altro giorno abbiamo fatto una prestazione, una partita importante cambiando un po', può essere anche quello una base e un punto di riferimento, però noi siamo cresciuti, abbiamo fatto bene, siamo arrivati dove siamo arrivati con una nostra identità.